il piazza dell'acqua è una spalla aperta una spa completamente immersa nella natura in cui ogni elemento è stato disposto in modo che lo sguardo sia sempre immerso nel verde non ci sono paesaggi antropizzati in questo spazio e in questo orizzonte che abbiamo da questo luogo in particolare abbiamo desiderato che fosse proprio più in basso in modo che garantisse la completa privacy agli ospiti che la utilizzano ci sono tre elementi scultori che sono le docce emozionali e anche loro sono virata in modo che ognuno veda solo la natura di fronte a sé sono disposti secondo i vertici di un triangolo equilatero questo tipo di dimensioni questo tipo di geometria crea un centro energetico ed è questo l'elemento dell'aria che abbiamo qua nel giardino e poi c'è l'elemento ovviamente dell'acqua che ritroviamo nella tinozza idromassaggio è una tinozza rustica in legno che viene descaldata al bisogno tramite una stufa e l'elemento di combustione è il legno del nostro bosco docce tinozza e sauna a botte con un oblò sulla val di cornia questi tre elementi garantiscono una un'esperienza completamente rigenerante agli ospiti che soggiorno presso la guarda vecchia